Musica Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News che apriamo occupandoci di sanità. Nessuna risposta dal Ministero alla richiesta di incontro urgente da parte del Sindaco e dell'Assessore Triglia per il punto nascite dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, il servizio. Non è ancora arrivato nessun riscontro alla richiesta urgente di incontro inviata dal Sindaco Angelo Cambiano e dall'Assessore alla Sanità Anna Triglia al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per affrontare da vicino la questione legata alla chiusura del punto nascite dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. L'impressione è che ci sia da essere ben poco ottimisti e da quanto abbiamo appreso da fonti interne dal prossimo mese di settembre dovrebbe essere ridotto il numero dei ricoveri per arrivare via via alla chiusura del reparto. Abbiamo sentito l'Assessore Anna Triglia che nelle scorse settimane in compagnia del primo cittadino ha incontrato il nuovo Assessore regionale alla Sanità Baldo Gucciardi che ha sostituito la dimissionaria Lucia Borsellino. Finora non c'è stato nessun riscontro alla nostra richiesta inviata al Ministero, le parole di Anna Triglia. Abbiamo provveduto nei giorni scorsi ad inviare un altro sollecito. Ciò che mi preme in modo particolare è invitare tutti coloro che hanno la possibilità di interessare onorevoli deputati ad attivarsi rapidamente. Quella per il mantenimento del punto nascite è una battaglia che non può avere alcun collore politico. Durante il vertice in Assessorato regionale la delegazione Licatese ha sottoposto a Gucciardi anche il report relativo ai numerosi incidenti che si sono verificati sulla statale 115. Ho provato a mettermi in contatto con l'Assessore di Cefalù, prosegue Anna Triglia. Per capire perché se per l'ospedale pelermitano è stata concessa la proroga, per noi non è valso lo stesso principio, visto che le condizioni viarie da e perlicata non sono mai migliorate. Ed è proprio questo l'aspetto che maggiormente stona. Nessun intervento di miglioramento è stato eseguito né sulla statale 115 né sulla 123 in direzione degli ospedali Vittorio Emanuele Di Gela, San Giovanni di Dio di Agrigento e Barone Lombardo di Canicattì. Apriamo la pagina della cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un operaio incensurato che ha ferito a colpi di sega due persone che erano intervenute in difesa dei vigili urbani che gli avevano contestato una multa davanti a uno stabile di via Salina sul lungomare di Gela in provincia di Caltanisset. In manette è finito Emanuele Cauchi di 32 anni e accaduto ieri a scatenare la rabbia dell'uomo sarebbe stata una contravvenzione levata dai vigili urbani all'auto dell'aggressore parcheggiata in divieto di sosta. Come da ordinanza della questura di Agrigento, il commissariato di Palma di Montechiaro ha effettuato ieri un controllo straordinario del territorio utilizzando due unità del reparto prevenzione crimine di Palermo, un equipaggio della locale sezione anticrimine, un equipaggio dell'UCT, un equipaggio della locale sezione Pasi e un equipaggio della sezione polizia stradale di Agrigento. Le persone identificate e controllate sono state 121, 78 i veicoli sottoposti a fermo e controllo, 7 i posti di controllo effettuati, 12 contravvenzioni al codice della strada, 15 le persone sottoposte a misure restrittive. Sono stati inoltre controllati 3 bar, sequestrato un veicolo, ritirato un documento e decurtati 5 punti da una patente. Cambiamo argomento. La Mediterranean Wind Offshore ha ritirato la proposta di variante al progetto originario per la realizzazione di un parco eolico offshore. Diverse le azioni intraprese dal comitato di Fendilicata-Nopeos per impedire la realizzazione del progetto, i particolari nel servizio di Laniabon. Insorgono comitati, associazioni, coordinamenti ma anche privati cittadini contro la volontà di realizzare il parco eolico offshore a due miglia marine dalla spiaggia antistante e il castello di Falconara. E di oggi la notizia è che la Mediterranean Wind Offshore ha ritirato la proposta di variante al progetto originario per la realizzazione di un parco eolico offshore. A due miglia marine dalla spiaggia antistante e il castello di Falconara. Avevamo ragione noi, scrive Tony Licata del comitato di Fendilicata-Nopeos ad opporci a tale variante. La gran quantità di opposizioni a questa variante di associazioni, comitati, coordinamenti e privati cittadini ha fatto sì che la stessa si rendesse conto che gli ostacoli che le si frapponevano erano tali da farle rischiare ancora di più la possibilità di realizzare l'opera. A tutt'oggi la Mediterranean è più che mai intenzionata a realizzare l'impianto e vuole fare pure in fretta, accelerando i tempi, quanto più possibile. C'è qualcuno che non si rende bene conto, scrive Tony Licata, di come sia maledettamente importante produrre atti e velocemente, per contrastare e vanificare le intenzioni della ditta proponente. A questo proposito sono state diverse le azioni intraprese dal comitato di Fendilicata-Nopeos, come il 3 agosto scorso la richiesta di incontro al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, per promuovere ulteriori azioni, non ultima la convocazione urgente del coordinamento dei No-Peos, 5 comuni, 2 ex province, 3 comitati di Licata, Butera e Gela, ma senza ottenere alcuna risposta. Il messaggio chiaro ed inequivocabile lanciato da Tony Licata alle istituzioni e il parco eolico offshore nel Golfo di Gela non è voluto ed i comitati faranno di tutto per impedire che ciò avvenga. In ragione di ciò invita ognuno ad assumersi le proprie responsabilità e di ciò si dovrà darne conto ai cittadini. Alla fine Lucia Borsellino lascia Palermo, l'ex assessore regionale alla salute della Giunta Crocetta, andrà a lavorare alla Genas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'incarico durerà due anni. Nella capitale Lucia Borsellino si occuperà del protocollo tra l'Agenzia e l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La figlia di Paolo Borsellino lo scorso 2 luglio ha lasciato l'incarico di governo, prenderà servizio dal 1 settembre. L'ex assessore si occuperà anche delle implementazioni di alcune delle misure previste dal Patto per la Salute 2014-2016 affidate all'Agenzia, tra le quali l'avvio del sistema nazionale di monitoraggio e controllo previsto. La Corte dei Conti torna a bacchettare ancora una volta la regione siciliana per il mancato contenimento della spesa sulla sanità. I giudici contabili puntano il dito sulla giungla degli appalti nelle varie aziende sanitarie. In Sicilia sono 18 le stazioni appaltanti. Quante le varie aziende? Più i 9 orega, ma dall'assessorato alla salute non sarebbe arrivata alcuna direttiva chiara sui costi standard e sulla spending review. Già la Corte dei Conti nei mesi scorsi aveva rilevato l'inefficacia dei controlli. E l'attuale ritratto completa il giudizio impietoso sulla crescita della spesa sanitaria in Sicilia. Anche sulle gare per l'efficientamento energetico si starebbe procedendo in ordine sparso senza un'indicazione chiara da parte dell'assessorato regionale. E' stata revocata l'ordinanza che interdiva la balneazione nelle località marine di Falconara e Monte Grande. I due provvedimenti, come si ricorderà, erano stati emessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro dall'ufficio circondariale marittimo coordinato dal tenente di vascello Luca Montenovi in seguito a due distinti ritrovamenti subacquei dei armi risalenti quasi certamente allo sbarco alleato del luglio 1943. Cessato il pericolo è venuto meno il senso dell'ordinanza con le due zone che sono tornate ad essere open per la balneazione. Le operazioni di recupero e messe in sicurezza delle due aree erano state espletate dal gruppo operativo subacqueo della Marina Militare proveniente da Augusta. Il loro intervento era stato richiesto dalla prefettura di Agrigento dopo il primo rinvenimento nei pressi di Falconara e l'informativa trasmessa dalla Capitaneria di Porto. Il corpo speciale della Marina, dopo aver operato una ricognizione subacquea per sincerarsi da vicino della condizione delle armi che giacciono sul fondale e della loro eventuale pericolosità, ha recuperato dal fondale alcune cassette di munizioni e un mitragliatore, a dare supporto ai sub della Marina e il gruppo archeologico Finzia della Guardia Costiera Ausiliaria. I rinvenimenti hanno avuto individuazioni differenti, per quanto concerne quello di Falconara erano stati i sub della Finzia da notare le cassette contenenti i proiettili e armi sul fondale, nel secondo caso invece le munizioni sono state notate da un privato cittadino a un metro e mezzo di fondale, quindi a una bassa profondità e a circa 30 metri dalla riva. Una volta rimosse le condizioni di pericolo, il circomare ha firmato la revoca dell'ordinanza con l'area che è tornata nuovamente fruibile a transito, ormeggio, pesca e qualsivoglia attività marittima per una distanza di un raggio non inferiore ai 100 metri. Il mare, nelle scorse settimane, ha però continuato a restituire reperti risalenti con ogni probabilità al secondo conflitto mondiale. I sub del gruppo archeologico Finziede hanno infatti riportato a gallo un fanalino o lanterna di segnalazione, probabilmente della LST 158, navia americana andata distrutta sulla spiaggia 70 ad Ilicata. Si tratta di nuovi rinvenimenti che andranno ad arricchire il Museo del Mare, all'interno del quale verrà allestito un allestimento, che riguarderà da vicino la Seconda Guerra Mondiale, andando ad incrementare i reperti gioie in esposizione visitabili all'interno della Tolos di via Guglielmo Marconi. Militari della Guardia Costiera di Porto Empedocle, in un'operazione congiunta con il personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento il gestore di uno stabilimento balneare per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo. Durante i controlli, lo stabilimento balneare è risultato occupare un tratto di arenile di circa 6.400 metri quadri in essenza di idoneo titolo concessorio. L'area è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale insieme ai materiali e attrezzature abusivamente collocati dal gestore. All'area e ai beni sequestrati, i militari hanno poi provveduto ad apporre i sigilli. Papa Francesco ha nominato l'Arcivescovo di Agrigento, il Cardinale Francesco Montenegro, membro della XIV Assemblea Generale Ordinare del Sinodo dei Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre prossimo e che avrà come tema la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Sono stati approvati gli atti necessari per la realizzazione del progetto di borse di lavoro per soggetti svantaggiati a Licata e a Palma di Montechiaro. Il servizio è di linea buona. Borse lavoro per soggetti svantaggiati. Il progetto nasce nell'ambito del riequilibrio del piano di zona del distretto sociosanitario D5, di cui Licata è il comune capofila. Si tratta di sostegno alle famiglie sotto forma di borse lavoro con l'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di 36 unità lavorative, di cui 24 presso il comune di Licata e 12 nel comune di Palma di Montechiaro, adulti disoccupati a rischio di esclusione sociale. La notizia arriva direttamente da una determina dirigenziale che porta la firma del coordinatore del distretto, il dottor Calogero Damanti, con la quale sono stati approvati gli atti necessari per la realizzazione del progetto previsto dal piano di zona, finalizzato ad agevolare l'accesso al lavoro delle categorie con svantaggio psicosociale, promuovendone l'inserimento lavorativo. È stato pubblicato il bando avviso rivolto ad enti privati, imprese, ditte, aziende, associazioni e cooperative disposte ad accogliere borse lavoro. L'attivazione della borsa lavoro avverrà attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra il distretto sociosanitario, il titolare dell'azienda ospitante ed il borsista. La borsa ha la durata di sei mesi, con un impegno orario di 25 ore settimanali, per complessive 100 ore mensili, distribuite su 5 giornate lavorative e un compenso mensile pari a 478 euro. La borsa lavoro non dà luogo ad alcun vincolo di assunzione né per le imprese ospitanti né per i borsisti, in quanto non si configura quale rapporto di lavoro o subordinazione. Il borsista sarà seguito da un tutor all'interno dell'impresa, mentre il monitoraggio spetterà al distretto. Si invitano pertanto imprese, ditte, aziende, associazioni e cooperative a far pervenire al Comune la disponibilità di accogliere borse di lavoro su apposito modulo e lettera di adesione, che potrà essere ritirata presso gli sportelli del front office dei servizi sociali professionali del Comune di Licata in via Marianello e a Palma di Montechiaro in via Madonieventi, oppure scaricato dal sito del Comune di Licata. L'ultimo dato del PIL evidenzia più che una fragilità dell'Italia, che comunque registra due trimestri consecutivi di crescita e un accumulato vicino allo 0,5%, la fragilità della crescita europea. Ed è bene che l'Europa abbia assunto il tema della crescita come prioritario, perché una comunità con 25 milioni di disoccupati non va lontano. In questo contesto nuovo, dopo aver già ottenuto la flessibilità per le riforme, possiamo avere un'ulteriore flessibilità sugli investimenti dell'ordine dei 5-6 miliardi. A dirlo è Graziano Del Rio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in un'intervista al Sole 24 Ore, in edicola Oggi. Venerdì 21 agosto, presso i locali di Casa San Filippo, sede dell'ente parco archeologico Valle dei Templi, si terrà una conferenza stampa per la presentazione dell'evento Le parole tra le dita alla Valle dei Templi accessibile del prossimo 24 agosto. L'evento prevede il servizio di accoglienza in lissa alla Valle dei Templi, la presentazione dell'itinerario Orione, percorso che prevede la presenza di mappe tattili che riportano il testo descrittivo sia in braille che in caratteri grandi e le guide turistiche opportunamente formate guideranno i visitatori in sicurezza per poter esplorare e conoscere piante e manufatti presenti all'interno del parco. Marina di Palma di Montechiaro diventa zona a traffico limitato. L'arenile in passato trasformata in parcheggio adesso è stato liberato dalle auto e il lungomare diventa tranquillamente percorribile a piedi. Sentiamo l'intervista al sindaco Pasquale Amato. Sindaco, l'istituzione della zona traffico limitato a Marina di Palma ha comportato delle polemiche, una rivoluzione? Una grande rivoluzione, però era una necessità. Vorrei ricordare a tutti che Marina di Palma per noi è la località, è la porta sul mare ed è la porta per il turismo. Purtroppo nasce così, come luogo di villeggiatura Marina di Palma e diventa un centro dove scendono ad edificare, a realizzarsi la casa di villeggiatura Nisseni, Cani Cattinesi, cioè dall'interno della Sicilia si riversa in quella zona come era successo anche a Gaff. Purtroppo nel tempo invece che curare quest'area di villeggiatura incomincia a diventare una sorta di trasferimento di seconda casa estiva, con disordine totale, mancanza di ordine, mancanza di controllo dello sviluppo e quindi da lì a breve si è trasformato l'arenile in parcheggio, il lungomare in un caotico corso dove girare con le macchine e creare incorchi e non era casuale che la sera invece di poter passeggiare bisognava stare a tendere a farsi mettere sotto con le macchine. Tutto questo ha comportato che cosa? Lo spopolamento di Marina di Palma, i cani cattinesi sono andati da altre parti, la stessa cosa per Nisseni, la stessa cosa di chi doveva venire a Marina, non ci veneva più perché non era luogo di villeggiatura, luogo di villeggiatura vuol dire ordine, serenità, svago, la possibilità di stare in tranquillità a godersi la serata culturale, la serata di spettacolo, ma non era niente di tutto questo più. Questo vi ha indotto a mettere un po' ordine, istituendo proprio la ZTL, ripeterete questa? Sì, addirittura quest'anno è diventata un po' la moda, ma io con soddisfazione hanno registrato questo, innanzitutto abbiamo liberato l'Arenile, ritornandolo perché non esiste che a Rimini sull'Arenile ci siano le macchine, non esiste che sia a Capodorlando, noi non capisco a San Vitolo Capo, noi invece sui nostri territori riusciamo a calpestarli soltanto, stiamo cercando di ricostruire la giusta dignità, la giusta misura, allora gli Arenile dovranno ritornare a essere lidi per balneare e quindi le abbiamo tolte alla destinazione di parcheggio e il lungomare di Marina di Palma senza fare americanate perché queste disponibilità non ci sono, d'altronde invito tutti a riflettere su com'è Taormina, non è con le doppie carreggiate Taormina, Taormina è resa vivibile dalla pedonabilità. L'occasione anche per visitare Marina di Palma? E infatti sta diventando un richiamo, io sabato registravo gente di Caltagirone che venivano lì a Marina di Palma e noi cosa stiamo offrendo? Stiamo offrendo il parco, il caffè letterario, stiamo offrendo la balera, cioè che siano anche spettacoli non eccessivi, che non comportano inizia, insomma popolare e stiamo ricostruendo questi momenti, qui anche momenti di spettacolo, noi abbiamo avuto domenica a Palma un bellissimo concerto di blues e ci stiamo preparando per altri eventi molto importanti, ma stiamo cercando di ricostituire le condizioni di villeggiabilità a Marina di Palma, niente di straordinario. Ci fermiamo per il break pubblicitario, tra poco. Questo programma è offerto da Dai Fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo, scusate se poco. Alicata domani, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi, la minima di 25 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest. Mare mosso, umidità oscillante tra i 57 e i 73%. Questo programma vi è stato presentato da Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Saffarello, Alicata. Sabato il tratto tra via Principe di Napoli e via Barrile vedrà lo svolgimento di una sagra del pesce, ne abbiamo parlato con il vice sindaco Giuseppe Montano. Vice sindaco, sabato la sagra del pesce è un momento importante per la città, spieghiamo dove avverrà l'installazione che riguarderà in particolar modo il quartiere marino. Innanzitutto io volevo dire che la sagra del pesce è una delle manifestazioni che si inquadrano nel programma di questa amministrazione e tende alla promozione del territorio ma soprattutto anche dei nostri prodotti, in questo caso i prodotti istici e cioè i prodotti pescati dai nostri marinai. Ne colgo l'occasione per ringraziare l'associazione dei pescatori per essersi prestata per tutta l'organizzazione per aver offerto anche il pesce e tutti gli coloro, tutti gli amici, i consiglieri che ci stanno aiutando ad un'organizzazione alquanto elaboriosa. La sagra si terrà il 22 corrente mese, cioè sabato, nel tratto di via Principe di Napoli, compreso tra piazza Attilio Regolo e l'incrocio di via Barrile. C'è da dire anche che bisogna naturalmente invitare la gente ad essere presente a un momento che pensiamo sarà sia pomeridiano che serale. Sì, la manifestazione inizierà alle 8 e terminerà a tarta serata quando avremo esaurito eventualmente tutto il materiale che sarà abbondante, quindi si proterrà per tutta la nottata e ce ne sarà, spero per tutti. Dopo il successo dell'edizione 2014 del premio Soccorso sotto le stelle di Gualtieri Sicaminò, consegnato lo scorso anno al giovane scrittore Alessio Puleo, anche l'edizione 2015 vedrà presente alla manifestazione organizzata e condotta da Francesco Anania il professor Francesco Pira che riceverà questa sera il riconoscimento per il suo impegno nel campo della cultura. Il premio attribuito ogni anno ad un siciliano che dà lustro alla nostra regione in giro per il mondo sarà consegnato nel corso della cerimonia dal sindaco Matteo Sciotto e dall'assessore allo spettacolo Pino Bonanno. Prosegue con crescente successo la rassegna sera ed estate organizzata dall'amministrazione comunale di Agrigento al Porticciolo di San Leone per tutto il mese di agosto, in particolare ieri sera, pubblico delle grandi occasioni per il cantante, imitatore di quelli che è il calcio di Rai 2 Luca Virago, che ha divertito tutti con le sue imitazioni questa sera. Spettacolo teatrale con inizio alle ore 21 e 30, il laboratorio teatrale Città di Agrigento presenta la commedia brillante in tre atti di Gerlando Tarallo Ogni cosa accuso tempo, l'ingresso è libero. Un altro premio per lo scrittore licatese Savio Liborio Ciufo, vediamo di cosa si tratta in questo servizio. L'associazione Curos di Lucca ha assegnato allo scrittore licatese Savio Liborio Ciufo il secondo premio al concorso nazionale Amore Materno con l'opera Nati per essere figli. Savio Liborio Ciufo è già noto nel campo letterario per avere nel 2009 ricevuto il prestigiosissimo premio nazionale Massimo Troisi a Napoli con la commedia Il crimine non paga le tasse e per essersi aggiudicato nel 2010 il premio teatrale internazionale Angelo Musco a Taormina con il testo leggiamo il testamento a proposito suo padre è morto e per essersi sempre classificato tra le primissime posizioni nei concorsi in cui ha partecipato. Ciufo attualmente è in tutte le librerie con il suo ultimo importante lavoro, un racconto edito da zona contemporanea che a dire del suo editore è qualcosa di veramente nuovo e particolare, sarcastico, ironico, poetico, drammatico e incisivo dalla prima all'ultima frase. Una storia con un piede nel surreale in cui il protagonista Lucius Costa dovrà affrontare prove ultraterrene che lo sconvolgeranno nel corpo e nella mente ma lui un antieroe stanco è anche un uomo dal sarcasmo acre e filosofico e ciò gli sarà fondamentale. Il titolo dell'opera presentata nei mesi scorsi è anche allicata e anche i mostri hanno un'anima per bruciare all'inferno. Era il nostro ultimo servizio in scaletta, grazie per la cortese attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.